Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova night session di Evoluta su Bitcoin. Ancora per un minuto è martedì 19 luglio, sono le 23.59 infatti, e andiamo a vedere che cosa è successo da quando abbiamo fatto l'ultima analisi. Quindi cosa mi aspettavo? Mi aspettavo dopo un movimento a rialzo, una discesa e poi una risalita sopra questo livello. Noi siamo andati persino all'undicesimo timono 3 inverso, ancora sopra, vincolandosi costantemente a ribasso per l'inverso e quindi a salire per i prezzi. Target questo superato, quindi abbiamo persino un T inverso ribassista, ciò significa che i prezzi sono andati a salire e stanno facendo i massimi. Leggevo in giro commenti di persone che dicono che si sarebbe andati a 13.000, persino a 5.000, a 3.500 dollari come prezzo. Invece, come state vedendo, stiamo risalendo e siamo andati persino ad impattare sulla media mobile a 50 periodi. Non ho aggiornato qui le candele, quindi guardiamo soltanto il grafico a 45 minuti. Ora però siamo arrivati all'undicesimo timono 3 inverso. Siamo andati al massimo di possibilità di allungamento della durata del settimanale inverso. E quindi che cosa succede? Sarà molto probabile, arrivati anche eventualmente fino alla 44esima barra, siamo alla 41esima, quindi fino alle 2 c'è ancora tempo per provare a superare i massimi assoluti. Siamo in area quasi 24.000 ormai, 23.611. Si inizierà finalmente a scendere. Devo rivedere un attimo se questo è ancora lo swing per la partenza di un nuovo T settimanale. Ho dato anche un altro swing importante. Vediamo. A questo punto salire siamo saliti anche più del dovuto, più dell'atteso. E questo ci faccia piacere perché il rimbalzo c'è stato esattamente come detto, entro i 336 giorni. Da allora abbiamo continuato ad andare in laterale, ma adesso stiamo andando verso l'alto. E quindi con una precisione di 3 giorni, rispetto a provisioni, visto il trove che parlano di mesi, piuttosto che di, boh, non si sa, estate o altro. 3 soli giorni, noi stiamo facendo partire qualche cosa, un ciclo che ci sta portando a salire come prezzi. Quindi non disceso. Stante questo, vediamo anche che qui siamo arrivati a 7 barre, qui abbiamo vincolato ancora una volta, prima volta vincolo ribassista d'inverso, secondo vincolo d'inverso. Se un uomo in sile è partito da qui o da qui, abbiamo comunque la conferma che continueremo a salire, alternando discese per far partire i nuovi t settimanali, fino almeno a 24 barre. E noi qui, in questo momento, abbiamo fatto proprio quello. Siamo arrivati a 24 barre. Per cui, attenzione alla discesa che sta per arrivare, attenzione a un eventuale raccordo inverso, deve essere sempre di 3 gradi inferiori rispetto al ciclo che precede e che seguirà. E se qui, se il nuovo mensile inverso fosse partito appunto da qui, attenzione al fatto che, essendo già arrivati a 24 barre, abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per iniziare una discesa più forte di quella semplice della partenza di un nuovo settimanali inverso. Ecco perché, anche qui, anche qui mi aspetto discesa. Questa è una chiusura potenziale di un mensile inverso, a tre tempi. Direi che è tutto per questa sera. Lato indice, siamo ancora indietro perché siamo a 32 barre più quello che volete, ma comunque siamo a 35, ok? Se qui sarà partito il settimo t-3, in caso di violazione di questo minimo, potremmo valutare eventualmente operazioni short. Grazie per l'attenzione, buona serata, arrivederci.